amici benvenuti siamo su pro cycling manager 18 un buon gioco di ciclismo e siamo qui perché siamo cercando di creare un nuovo utente siamo nella carriera ciclista non nella squadra quindi adesso qua dobbiamo inserire i nostri dati dobbiamo inserire tutte le nostre caratteristiche con la pelle l'immagine poi mettiamo il nostro nome qua dobbiamo cercare la nazionalità perché la nazionalità puoi anche mettere la zona in cui siete infatti se lo scegliete io metterò di cura perché sono la riguria poi mettiamo un po le caratteristiche di quando siamo alti quando sono pesanti mi piace fare il ciclista tipo passista però che la montagna ma sono 100 quindi non esiste un ciclista presente di 100 che sarebbe fare una sfida tipo ciclista maggiore 100 kg vince in un grande giro come mettiamo questo facciamo il colore della pelle scegliamo un po il colore della pelle che ci dice un po di più e vediamo un po l'immagine quali quali ci sono i ciclisti ci possono essere non ci hanno non possiamo modificare aspetta cerchiamo uno o questo va bene dai andiamo avanti adesso la cosa caratteristica che cambia da quest'anno l'anno scorso qui puoi scegliere la prima caratteristica scalatore e come dice questo pezzo l'anno scorso tu potevi mettere grande corse scalatore bla 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 e poi non avevi una seconda opzione hai solo un primo invece quest'anno si basano su due caratteristiche e in base alle due caratteristiche che tu sceglierai si avranno dei valori che cambieranno e questi valori che cambieranno verranno incomparsi in queste barre come si sta spiegando adesso il tutorial di questa piccola novità che non è la conoscenza e qui insegna una cosa molto importante perché l'anno scorso sarete seguito i miei video il ciclista scegliendo la corsa a tappe come penso che ognuno voglia fare ma c'è gente che piace fare ciclista stanno guardando un po il parametri da variare se si metteva scalatore e più che scalatore e il corsa a tappe che quello più completo e e se andava avanti il tempo con il queste caratteristiche cosa ti veniva ti veniva un ciclista che era fortissimo crono un ciclista fortissimo in salita ma che aveva l'accelerazione 60 quando tu avevi tipo 82 83 in salita e faceva fatica a salire resistenza accelerazione recupero e volate e quindi facci veramente fatica e poi non riuscivi a crescere due modificare un po il tempo adesso poi farò vedere o diamo un po gli allenamenti adesso scegliamo un po la squadra qua scegliamo la squadra che poi ci farà correre ci sono tre squadre differenti non c'è quella della bardiani che ho scelto l'anno scorso c'è la ccc se non sbaglio c'è la william triestina ovviamente qui come dice dovete scegliere in base alle gradatorie più siete altri gradatori più avete la possibilità che la squadra vi convoccherà per le gare importanti ovviamente il gioco funziona in un modo in particolare cioè ti fanno partecipare prima delle case di basso livello se le vinci sblocchi il livello successivo se le vinci sblocchi il livello successivo sblocchi il livello successivo e poi puoi andare avanti fino ad raggiungere a un certo livello che sono quelle pro tour devi vincere le catturie sotto il tour mi sembra le 2 hc quando vinci il pro tour potrei fare un grande giro quando vinci che sarà la vuelta o il giro d'italia quando vinci il giro d'italia o la vuelta puoi andare andare a fare il tour de france solo in quel caso mi sembra che puoi andare a fare il tour de france comunque non so se vincendo comunque pro tour puoi fare solamente il tour de france questo non non lo ricordo perché non ci sto giocando da quasi un anno quindi adesso faremo un po' adesso fa vedere un po' le caratteristiche ovviamente mi sono indicato di togliere il tutorial ti dice che su livello in base a quando sali di livello ti aumentano le caratteristiche la percentuale in base a quanto sei soddisfatto più sei... più la percentuale è soddisfatto più ti da la possibilità di gareggiare ma soprattutto ti rinnoveranno il contratto più sai di livello e più ascolti quello che ti dicono potrai sempre migliorare le tue caratteristiche e di miglioramento adesso poi ti fa vedere che le prossime corse le corse che sono in calendario o quello che vorresti fare vorrei fare il giro d'italia ma ovviamente al primo anno è quasi impossibile adesso sono le caratteristiche queste caratteristiche mie della squadra perché è impossibile perché praticamente tu dovresti vincere una gara da gennaio ad aprile o anche a maggio però il primo di maggio c'è già il giro d'italia e vincerà tipo parigi tirano adriatico visto che stiamo avendo testina potremmo essere invitati come wildcard nella tirano adriatico e vincere la tappa la cosa difficile è che uno non avrò la condizione per vincere le unico le gare e due ovviamente non avrò le caratteristiche quindi principalmente al primo anno vi consiglio se volete crescere bene mentre siamo andati in gara in spezzoni di gara gara in esistenza questa è la pc 1 mondiale pc m1 che sono tre gare inventate dal gioco per farti prendere un po' confidenza e forse anche date possibilità di vincere ma come hai visto sei un gregari quindi non puoi vincere e mi faccio vedere un po' adesso questa visuale se noi siamo qua davanti andiamo a proteggere il nostro leader fra poco cominceremo a tirare adesso poi tante cadute sul bagnato poi adesso questo è un altro fattore che devi guardare le cadute qua sono caduti vediamo se lavorare per spingere adesso vediamo un attimo cosa no aspettiamo aspettiamo vabbè ti sto dicendo è quasi impossibile perché ovviamente tu devi vincere quindi il primo anno di solito si fanno il consiglio tutte le gare per salire di livello per vendere più punti possibili non fate quello che volete voi tipo partite scattate e andate a vincere perché è quasi impossibile è meglio ascoltare quello che dice i consigli qua il capitano che dicono gli altri così da poter avere la possibilità di prendere tanti punti tanti punti vuol dire salire velocemente di livello più salire velocemente di livello più aumenteranno le caratteristiche ovviamente in questo momento tanto le caratteristiche potrei vincere una tappa importante tipo visto che io ho impostato come corsa tappe il mio obiettivo è quello di salire tanto in montagna e a cronometro e magari vincere di solito la prima gara che vinco è la cronometro quando salgo di 2-3 livelli che a crono sono tipo 63-64 magari c'è una salita con magari 76-67 di salita puoi fare la differenza e mi sembra che c'è la prima gara che sono due chilometri un chilometro su di salita quindi vai a manetta cronometro e lì c'è la differenza il problema in questo gioco che non è tanto realistico più o meno la cosa bella è che ci gioco e che adesso conosco anche due persone reali in questo gioco c'è l'Iro Troia che non lo capito nelle mie parti e ha finito la Strutture de France e comunque viene a rinarsi qua attenzione con questo di tutti siamo rimasti in pochi io ci provo a rimanere qua dicono di collaborare anche perché mancano pochi chilometri questo prova a scattare io non ho energie però vabbè dai proviamoci qua non dovevo scattare dovevo aspettare infatti sono saltato in aria potevo fare forse podio invece sono saltato come un pier potevo fare forse